Ok ragazzi eccoci qua alla prima Primo episodio su Fresh TV Io sono Buebo e se con me Qua Fresh Mula e oggi avremo una situazione caldissima Quindi andate subito ad iscrivervi, mettere like, commentare, condividere Dito ai vostri genitori, ai vostri nonni, a chiunque raga Stiamo andando crazy Quindi oggi abbiamo un ospite super speciale Contro 20 queens, 20 ladies Quindi faccio questa presentazione Facciamo questa presentazione L'ospite è super speciale ragazzi eh Abbiamo il primo guest del primo format Il padre Il padre Il padre L'originator L'originale quello vero ragazzi Ok vogliamo un cazzino fuoco nei commenti Un fuoco raga Per bello Figo Chi ha roschi, martelli, chiaro, martelli Facciamo Chi ha Come ti to' bene? Siete pronti per martellare? Siamo caldissimi per martellare Allora la mia domanda è Voglio capire se questo è smash o pass o cap o pass Esatto Per se è smash o bro devo smashare davvero Se no è cap Esatto Quindi se è cap o pass me lo dite ed esco fuori Secondo me è generoso È generoso la sinistra È chiaro Vai facciamolo Facciamolo Chi ha Ok ragazzi miei Quindi noi ci andremo ad accomodare qua E partiremo con le ragazze Lasciamo la palla bello e bro Vai facciamo Martelliamo bro Martelliamolo Siamo pronti Let's go Let's go Let's go That's crazy Let's get it Sei pronto my slime Facciamolo Ai 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 Siamo pronti con la prima ragazza Quindi Vai ci siamo Ok Piacere Come stai? Bene te Dove sei? Sei di Milano qua? No Dove sei? Vicenza Mi conosci Mi hai vista Quindi alla fine sei di Vicenza davvero? Eh Non era una bugia Allora Allora Volevo smashare un paio di tempo fa Poi in serato si è comportata male Ma vabbè Facciamo così 50-50 Un smash Si ci sta Dai smash Mi sono comportata male perché In serato poi si è comportata male perché Poi ne parliamo Comunque dai Eh perché? Poi ne parliamo La teniamo La teniamo Approfondiamo dopo Va bene Dai Andiamo Ok La prima è andata Next one Next one ragazzi Ehi là Piacere Melissa Piacere Sei di Milano? Si di Milano Ti mesciamo Martelli ti mesciamo Martelli qua Martelli qua Martelliamo Martelliamo Poi approfondiamo Voleva già rimanere Voleva rimanere La ragazza Bravo Meli Next one Andiamo alla prossima Andiamo alla prossima Ciao Piacere Piacere Come stai? Bene e te? Tutto bene grazie Sei di Milano? No sono di Torino Ah Torino Ci sta Ci sta Martelliamo Lo stile c'è Ci sta Incredibile Ci vediamo dopo Approfondiamo dopo dai Ok ciao Passiamo alla prossima Iniziamo chill Iniziamo chill Piacere Carolina Piacere Di dove sei caro? Vizzera Ok carino Sei stato un paio di volte Sono venuta a vederti Dove? Che locale era? Lugano Lugano Al live Al live Al live Sì Cazzo Vero Sì Lui ne sa qualcosa Come è successo lì Bello Carino Ti sei divertita La serata Sì Quindi super fan mia Super fan Sì Qual è la tua canzone preferita mia? Siamo oggi Non pago affitto Vai Oh 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 No ci sta Però troppo mainstream Ma aspettavo qualcosa di più Capito? Cioè non la conosco di tanti Invece Non pago affitto Troppo mainstream Però ci sta Se ti piace a quella ci sta Nomina almeno altre due Di canzoni di bello Dai vediamo Magari potrebbero fare Francesco Totti Mainstream ci sta Ok Ok Leggings di pelle Ok Allora dai Almeno altre due Ancora Dai dai Sì super fan 5 5 Stai nominando tutte hit Basta col tonno Eeeh Easy Te la contiamo No però ci sta Però Mi fai un giro Riesci a girarti Sono 360 Ci messiamo Dai approfondiamo dopo Ci messiamo Ok Tlin tlin Passiamo alla prossima Passiamo alla prossima Queen Next Queen Piacere Ermi Ciao Come ti chiami? Ermi Ermi Ah Sì di Milano No di Bergamo Ah Bergamo Cazzo ci devo andare domani a Bergamo A Settai che c'è il concerto Incredibile Eeeh Passiamo Passi Passiamo 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 bro Niente niente I pasticellare Siete davvero amiche Martelliamo Subito Subito Ragazzi miei Sono amiche Adesso la faccio vedere Te la ricordi questa Lei lo sta già organizzando Ah si Arianna Si si è mia amica Sì si è mia amica Martelliamo Martelliamo Subito Chiaro Martelliamo Ciao Fede Ci vediamo dopo 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 Siamo alla prossima Queen Uh wow Next girl Wow Ciao Ciao Piacere Claudia Piacere Come stai? Bene te? Benissimo grazie Sei il Milano? Sono di Brescia Ah Brescia Cazzo La vostra città Brescia Chiaro Città Fai vedere il tatuaggio Che hai qua città Ok Ok Città Ne hai tante Beglie anche tu hai Io tutto ho ricoperto Di tatuaggio Mi ho una passione in comune Site workare Cubano Assolutamente Latina Città Martelliamo Approfondiamo dopo Martelliamo Approfondiamo dopo Aiaiai Approfondimento Approfondiamo dopo Chiaro Chiaro Martelli Chiaro Lasghiri Ciao Piacere Alessandra Piacere Alessandra Tutto bene? Provincia Provincia dove? Cinisello Balsamo Ah Cinisello Ci sta Ci sta Te come stai? Tutto bene Sai chi sono? Sei una mia fan So chi sei Ok Citami tre canzoni miei Ho detto che so chi sei Non che sono una fan Ok ma Sai delle mie canzoni Le conosci almeno un po' So quelle che ha detto Prima la ragazza Quali sono? Pasta col tonno Quella della patente Mi piace Ah ma la macchina Già un punto a favore Perché ha citato una Che non è mainstream È più ricercata È più vera questa Capito? Quella della patente Voglio dire che l'ha sentita da vera Mi piace un po' Ok l'ultima Quale potrebbe essere? Leggis di pelle Leggis di pelle Ci sta Ci sta Apprezzo ma dovrò passare Perché una Una Non ti sento super fan E non c'è tantissima connessione Va bene grazie Città Ciao Passiamo alla prossima Passiamo alla prossima La situa è calda eh Let's go ladies Uh Ehi Ciao Incredibile Come ti chiami? Godest Godest Sei di Milano? No io sono di Torino Ah Torino Torino spacca eh Pensavo fosse così La vita domanda C'è una mia fan Conoscere le mie canzoni No Sì Sai chi sono Ma magari non mi segui forse Sai chi sono Ma non mi segui forse Diciamo che magari Sui social no Ma come personaggio E tutto il resto sì Allora dimmi qualcosa Di particolare Per dare conferma Cioè sia del mio personaggio Che delle mie canzoni Allora per esempio Delle tue canzoni Magari quelle che hai fatto prima Prima? Tipo? Tipo le solite Pasta col tonno Eccetera eccetera Sì sono belle Fanno ridere Però diciamo che Quelle che mi sono piaciute di più Mi dispiace solo che Non mi ricordo il titolo Sono quelle con Con la Slitzgang Ai Slings I miei bro Ok Tipo l'ultima ABC E Mood Bravo Mood Quella mi ha fatto impazzire Ciao a Slings Ci sta Non super fan Un po' dell'uso No no Mi piace Mi piace Passiamo Deve passare Non c'è connessione Non c'è connessione Ai 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 Next girl Buongiorno Ehi la Ciao Buongiorno C'era Alessia Alessia Sei di Milano Alessia Sì provincia Provincia Cazzo da come è arrivato Bro qua mi serve un 360 Perché non vorrei sbagliarmi Ancora prima di chiedersi se fanno qualsiasi cosa Mi riesci a fare un 360 Vado Cosa dici Slum? Visto bene? Chi dici? Allora facciamo Riesci a rifarla Ok Bene Buono Mi conosci Sai che so Io sono stessionata Tipo da una settimana Con la tua canzone Qual è? 2004 Aiaiaiai Ma perché sei nella 2004? Sì Ah ok Ok Dai Punteggio incredibile Dai Martello Solo per questo Martello Martelli Profondiamo dopo Martello Super fan Dopo Passiamo alla prossima Alla prossima Let's go Let's go Ci siamo Ci siamo quasi Ehi la Ciao Piacere Gaia Ma cioè Sembrano Sto uguali su te Formosa Incredibile Con la situa Come stai? Bene e te? Tutto bene Sei di Milano? Sì Non Fan Non fan Mi conosci Non mi conosci Ti conosco Ti conosco A quanto? Eh un po' Bene Abbastanza bene Ti conosco Bene Bene Ti ti ho metto le canzoni Non mainstream però Se no non vale Eh così mi metti in difficoltà Allora forse riesci a farmi un 360 se vuoi E le facciamo imparare le canzoni Martelliamo E le facciamo imparare le canzoni E le facciamo imparare le canzoni Non ti preoccupare Damn bro Crazy Ehi la Ciao Ciao Piacere Piacere Tu mamacita Come ti chiami? Stacy Ah Stacy Sei italiana? Venezuela Ah ecco perché Stacy Latina Latina mami Incredibile E sai chi sono Stacy? Certo che sì Conosci le mie canzoni? Sì Qual è la tua preferita? Passa al tonno Passa al tonno Però accettabile Da una latina magari non è focalizzata Città Anche la che ti piace Molto ballabile La nuova ti piace? ABC ci ti piace? Sì sì L'ho sentita tanto su TikTok Incredibile Stacy c'ha lo stile che ci sta Ci sta Martelliamo Dopo approfondiamo Martelliamo? Ok La prossima Ciao Piacere Giulia Giulia di dove sei? Milano provincia Ah provincia Incredibile Ci può stare Fan non fan Metà metà Sentito diciamo Sentito Non abbiamo tanto in comune Giulia Dovrò passare Passata Ai 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 Pesso Grazie lo stesso Giulia Andiamo alla prossima ragazzi Andiamo Let's go Let's get it Ciao Ciao Piacere Alexia Piacere Super brava ragazza Da come sei vestita Non sembra che non c'è Tu con me I vestitini Li lascio ad altre occasioni Tipo Cioè Dai Mi piace farmi vedere Per come sono Poi Poi In serata Sai Si vede Vai cerchiamo di recuperare Mi conosci Sei fan non fan Tutti conoscono Bello figo Eh ma tutti conoscono Ma bisogna vedere Se sei davvero fan o no Allora fan Se ti piacciono le fan Si può diventare fan Però di base Sono le canzoni Dai abc Leggings di pelle Ok facciamo così Non mi piace giudicare Come tanta gente Ha fatto con me Nella mia vita La giudicazione Se dovessi giudicare subito Da come sei vestita Ti devi pass Però vorrei approfondire Perché mi piace la conversazione Quindi dopo approfondiamo Potrebbe essere Un martellare Quindi la teniamo Intanto Martelliamo 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 Lezioski Next one Next one Ciao E là Asia Di Milano Trieste Trieste Ah cazzo Ha fatto bella strada Minchia Ma sei venuta solo per me Si Incredibile Incredibile Qua guadagni già dei punti Se ti chiedo un 360 Primo treno per Trieste Prenotala Prenotala a martellare Martellare Asia Ci vediamo dopo Martelliamo A dopo Ok Come la situa Stavo martellando La situa Ehi là Stavo martellando Ciao Piacere nena Piacere Come stai? Bene tu Bene bene Di dove sei Milano? Trieste Trieste Anche l'altra è Trieste Doppiata di Trieste Ah Solo per te? Solo per te Ci sta Fan non fan Può essere Che vuol dire può essere? Non so Ci troviamo una mia canzone Non mainstream Non mainstream però Allora se mi citi una mainstream Un po' vecchia Va fan Si Brava Si effettivamente si Davvero Ok quindi c'eri già dai inizi X machine X machine Con chi è? Con Carmine Famola Ah si Vecchia forse Allora Si Sei fan Perché conosce le canzoni Dai per quello martelliamo Martelliamo Quindi dopo approfondiamo Grazie Dai Ci vediamo dopo Martelliamo 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 Mamma mia Mamma mia Ti è dimostrata vera fan Martelliamo Sai che io con i billoni Con i martelli Non scherzo Chiaro Quindi dimostri di essere fan Chiaroschi Chiaroschi Ok Ok Ehi Ok Ehi la Ciao Ciao Come ti chiami? Brigitte Ah Brigitte Sei di Milano? No Di dove sei? Torino 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 sulla mappa eh Che bisogna passare a Torino Per forza Ah bisogna passare a Torino Per forza Stessa domanda Fan non fan Sì dai Solo che mi hai bloccato Quindi Però io Sai Insegnando i martelli Li ho anche insegnate Che purtroppo Quest'anno 2024 Se blocchiamo Non torniamo più indietro Quindi per i martelli Purtroppo devo Passare Perché Se è un bloccato Rimane bloccato Purtroppo Dai Alla prossima Ok Ok È bloccato Dobbiamo passare Martelli Chiaro Una famosa Qua abbiamo eh Ciao Natali Piacere Natali Sei di Milano? Sì Ci sta Uno stile un po' strano Non è il mio solito Ma ci sta Fan non fan Conoscere le mie canzoni Sincera? Sì sincerissima Allora Ti conosco di nome Ma non di canzone Ah bro Purtroppo Ho sentito le tue canzoni Però non Quindi Conosco alcune Appunto Quelle che hanno Hanno detto Quelle ragazze di prima Quindi Apprezzo la sincerità Sai cos'è? Apprezzo la sincerità Anzi Però ci siano tante tipe Come te Che a me non mi fanno Perdere tempo Il problema qual è? Il problema che io Devo dare però spazio Ai veri martelli E le martelle Quelle vere Non lo accetto Eppure io Sento la sincerità Ah è grande Quindi dovrò passare Martelli Sento il sincero Meglio è Invece di essere falso Di faccia Grande Apprezzo Grandissima Apprezzo Ai grande martello Ai ragazzi La prossima è calda Però è occhio Piacere Che origine sei Tracy Che origine sei Romania Romania Perché sei uguale con una mia amica E lei del Moldava Mi giuro sei uguale Siamo lì Sono vicino Ah siete Ecco perché Allora Sei di Milano Sono di Bergamo Bergamo Domani Domani Vieni domani Il concerto mio Se ti invito Vieni vero Per favore Allora Terra Estese Per la mia amica Era una martellare Se sa cosa per te Anche per te A martellare Quindi martelliamo Ci vediamo dopo A dopo Tracy Ok a dopo Tracy The last girl The last one Ciao Piacere Piacere Di Milano Sì Ti vedo agitata Ti vedo un po' Ora se posso essere sincera Non volevo farlo Perché l'ho capito su Ti vedo agitata Perché sono fidanzata Però va bene lo stesso E posso dire una cosa Questo uomo È di gran valore Perché io gli ho scritto Dicendogli che aveva bisogno Di cubiste migliori E lui mi ha risposto Quando sarai single Mamma mia Come risolviamo Perché No 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 Giusto Giusto Perché è fidanzata Voleva dare consigli Ai single Come fare Io ho detto Guarda quando sarai single Ci vediamo Mi dai consigli E martelliamo Quindi bravo Apprezzo che Magari la seconda parte no Però grazie mille Grazie a te Allora abbiamo finito Il primo giro Abbiamo finito il primo giro Le venti sono andate Le venti sono andate La situazione direi Che è stata Hot Interessante Che dici bello Chiaro Chiaro Le selezioni Le abbiamo fatte bene Facciamo Quindi ora Passeremo Alla fase 2 Ci siamo raga Con il secondo turno Quindi mi raccomando Iscrivetevi Seguite bello Seguite noi Mula buebas Non capatelo Stiamo facendo per voi Raga la banda Sta andando presi Quindi partendo la prima ragazza Let's go Eccoci qua Ci sta Com'era il nome? Melissa Melissa Incredibile Vai Melly Sentiamo un po' Qual è il tuo body count? Sentiamo Quanti tipi Body count Quanti tipi sei stata? Una decina Decina? Ci sta Reale Veri O stai che pan? Oh veri Veri Tua posizione preferita? La mia? Posizione preferita Non lo sento Posizione preferita? Pecorino Ok Bello Facciamo così Risparmiamo tempo Passo perché Uno con le bionde Tutte le volte Tutte le mie ex bionde Fanno casino Quindi non ho una fortuna Con le bionde Due La vedo un po' Timida A me piacciono quelle 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 vere Quei martelli Quindi Risparmiamo tempo Dovrò passare Piacere Allora Alla prossima Grazie Meli Sparmiamo tempo Alla prossima girl Prossima queen Eccola Eila Eila Ti ricordi il mio nome? Celine Perché ho una memoria Ho conosciuto troppe ragazze No 5.000 pezzi Canzoni Nella memoria Quindi c'è una memoria Che Immagino Céline Céline Body count Come c'è lì? Sono vergine Oh Non scherzo No Devo dire la verità Potevo essere il primo Il primo nero a farlo Ah sì Saresti comunque il primo nero Perché io non sono mai andata Con un ragazzo di colore Davvero? Giuro Sì Comunque Più di 20 Più di 20? Sì Damn Incredibile Pognizione preferita? A 90 Banale Ci sta Dai Non ti piace? Anche 69 Ok Così già Così già mi convinci Così già mi convinci Hai mai fatto una cosa 3? No mai Mai Ti piacerebbe farlo? Sì Ma ragazzo e ragazzo Ragazzo e ragazzo Due ragazzi Ok Ok Sì Ok Se lo organizziamo lo faresti? Però non due ragazzi Io da solo Con due tipe Cioè tu e un'altra Con me lo faresti? Sì Allora martelliamo Martelliamo Ci siamo Dopo Selin Vi vedete dopo allora Selin martelliamo Grande Così Selin Come era il nome? Carolina Caro Sì Quella è della Svizzera Vero? Esatto Incredibile Allora sarò sincero Caro Potrei O lavala spacca Come potresti Salirmi Come potresti scendere Allora Body count Con quanti tipi sei stato? Più o meno Due Due Wow davvero? È la verità Giuro 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 Sì in effetti sembra una brava ragazza Quindi può essere Sono una brava ragazza Sì una brava ragazza Quindi uno come me potrebbe creare altri casini nella vita Ah no Sono una brava ragazza ma nessuno mi può creare casini Sono io che li creo agli altri Sei mai stato con un martello? Sai chi sono i martelli? No Spiegamelo I martelli sono quelli che martellano Fanno casini Ah ma io sono stata con rit-forse No no Non è uguale perché i martelli non sono rit-forse I martelli sono quelli che magari Non assaggiano solo una tipa Cioè assaggiano Fanno casini Flexano Fanno soldi I bad boy Come si dicono? Ah io sono una bad girl Ah ok Quindi In questo caso Ah ok Quindi in realtà ti piacciono i martelli In questo caso Sì Ma ci togli una curiosità Che origini hai? Indovina Secondo me Nord africana Capoverde Qua hai indovinato Qua hai indovinato Me ne intendo Qua sono quasi bravo In queste cose qua Qua Capoverde Wow Posizione preferita Anche se l'hai fatto due volte Eh Questo si scopre Vuoi scoprirlo slime? Vorrei che mi la facesse salire Per farlo scoprire Capito? Qua è un po' troppo Capito? Capito 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 Dovrò passare per i martelli Picchi altro Non per me Per i martelli Perché a martelli Se mi vedono martellare Una che non sa twercare È grave eh Perché lo dico ognuno di Si può imparare? Grosso lei twerca E assaggio una che non twerca No 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 Si può imparare dici? Si può imparare? Non so se abbiamo tempo Da insegnare a qualcuno A twercare Capito il problema? Passo Passo Va bene Grazie Alla prossima Ciao grazie mille Grazie Next one Rieccoci Mamma in cubana Sì sì di lei mi ricordo Quella tatuata Il nome però non mi ricordo Male Claudia Claudia scusa Vediamo come dicevo O Carmen o due Puoi scegliere quello che vuoi Com'è? Carmen o Claudia Ah Carmen o Claudia Quello che trovi più semplice da ricordare No a lei ci sta perché Gli piacciono i tatuaggi Gli tatuaggi allo stile Come mi piace a me Body count? Your back and count? Quello Un paio di zeri Un paio? Un bel paio di zeri E non so neanche che panno E ma body count Non ho mai risposto Ma Lo vuoi sapere? Importante Potrebbe aiutare O peggiorare Dipende Infatti per quello Dovrei sapere Te lo dico dopo Ok Non mi puoi passare Posizione preferita? Me ne piacciono tantissime Tipo? Ma la preferita in piedi Oh my god Ok Ok Ci siamo Ma in che senso? Spiegaci meglio Per quanto al pubblico? Ok 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 Ci sta In piedi non è male Ci sta Uno dei miei preferiti Chi mi conosce lo sa Ehm Bene Direi che già dopo questa Martelliamo Dai approfondiamo Dopo questa Arribbattiamo Dopo approfondiamo Dopo approfondiamo Mammi mammi Profondiamo Ma l'ha sato Perché in piedi per me In crece Mamma mia bello Com'è la situa Che selecta Incredibile Ehi là Aspetta com'era il nome? Gaia Ah Gaia Sì Gaia Gaia parte bene Body count Pochi Veramente pochi Sì Pochi tipo Ma fai che In realtà Una relazione molto importante In realtà uno può pensare Potrebbe pensare che magari Averne tante È un difetto Ma magari ti fa D'esperienza Quindi capito Arrivo lì che Mi fai impazzire Capito Quindi ci può anche stare Eh ma vado di qualità Qualità Scelgo bene Ok ci sta Stai twercare Immagino Ma non lo faccio Non twerchi No Non twerchi Male male Bro Ho guardato in faccia Il mio fotografo Ma ho tolto Lo sguardo Martello Cosa dice C'è E lui è un vero martello L'ho guardato in faccia Era così Mi guardavo L'ho guardato in faccia Mi ho guardato e mi fa Bro Dovrò passare Purtroppo Se non twerchiamo Sicuro No è un peccato Perché Cazzo Fisico incredibile Dai c'è neanche uno step Niente No no A parte che Ho bloccato Sei bloccato Ah si Ah sei bloccata Ai 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 E nel 2024 Non torno più indietro Quindi Passiamo Passiamo Ehi là Oh Oh Quindi rispondi già La domanda Sai twercare Rispondi già Allora Te ti avevo smashata Perché eri fan Vero Ti eri dimostrata Super fan E la Quella real Quella real Si sta Body count Nessuna Però Trombo Chi vuol dire Nessuna Però Martello Con chi martelli Con il dildo Beh Vado in giro Vado nelle discoteche Becchio Esempio La mia prima volta Ho fatto in discoteca In discoteca Già Il parcheggio Oh Fuck Oh No Non posso Fattere con sta cosa Bro No Non posso farlo Ai 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 Scusamo Devo Quando lo dico Tutti quanti Che mangono così Al parcheggio Mi dispiace Ma non posso Devo passare Amo Al parcheggio Passare Ai 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 Grazie lo stesso Nat Grazie Non posso farsi a cosa Andiamo Andiamo alla prossima Next one Next one Next one Ok ok La prossima È calda bro Occhio Occhio Ai 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 Sono ancora qua Come stai Fede Bene Allora voglio fare domande particolari Interessanti Personali per me Anch'io dopo voglio farne una Ok Spero di non rimanere deluso Body count o? Una quarantina Uh Quarantina Ci piace Ci piace Stile ci sta Cioè io guardo una come te Così Stile ci sta Ok Posso passare Posso passare su Ci sta E posizione preferita? Io sopra L'uomo Ok Mi piace dominare Sai Sei Beh Perché no Perché non dovrei saperlo fare Il posto più strano che l'hai mai fatto Vediamo quanto sei pazza Come? Il posto più strano che l'hai fatto Ma in realtà Pensaci con Carlo Mare Ale però Una cosa davvero successa In mare L'unica cosa Se non hai mai fatto in posti così estremamente No però mi piace tipo Fare cose porche In pubblico Ah Damn Sì anche a me Ci sta Far alzare Il martello Incredibile Far alzare i martelli Incredibile Ci sta Sì 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 Per me fede Già il fatto che abbiamo anche un'amica in comune Per me Continua a essere un martello Per me è un martello In questo momento dovrei andare in bagno Non so magari Ti piace la pipì addosso? Addosso a me no ma Fare addosso alle tipe sì Uh Ah sì? Neanche con il martello duro? Zero Ma addosso a me no Zero L'unica cosa Dai Va bene Ci piacciono Sicuro Comunque martellare Ci vediamo dopo A dopo Mamma mia See you later E' super bollente Iscrivetevi Commentate Condividete Seguiteci Seguite Bello Seguite tutta la prank Io tu sapi Siamo alla prossima Let's go No pipì addosso Mi raccomando No pipì addosso Raga eh Hello Esco la qua Lei mi piace sai perché? Perché la vedi così tranquilla Da scoprire però Esatto Ma ho colpito con questa frase qua Quando mi hai detto Mi lascio Dovrei scoprirmi E dovevo fare Body count Tipico in cui sei stato Più o meno Più di quanto ti aspetti Sì eh Cioè quando Quindi se io Ma aspetto Se io ti dicessi Una ventina Tu mi dovresti di più Ti aspetti una ventina Da me Mi hai detto che sembro Una brava ragazza Però tu mi hai detto Più di quanto ti aspetti E già ho immaginato Una ventina Che dici tu? Vabbè dai Non esageriamo Esagerato Decina Ho la mia età Sì dai Siamo giù di lì Un po' di più Un po' di meno Un po' di più Ok ci sta Posizione preferita? Tutte con quello giusto Dai Tutte con quello giusto Ci sta Ci può stare Ci può stare Un po' di più strano Che l'avevi fatta Nel bagno Di una spa Ah Anch'io E c'era la sauna In una sauna Un caldo voglio Sì sì La sauna Anche le piscine fredde Sai dopo In bagno Cazzo Ho un paio di esperienze Anch'io là Incredibile Continui a piacere Mi ci sta Martello 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 Qual era il nome Che mi ricordavo? Alexia Alexia Ci sta Ci sta Adopo Alexia Let's get it Next one Benvenuta back Stessi Stessi È vero Stessi Mi ricordo il nome Perché è l'unica Latina E cose E quindi mi è rimasta Facciamo così Io con le Un paio di amiche Tantissime amiche Latine Che martellano E di solito Sono me stesso Sono diretto con loro Ti faccio a te Direttamente una domanda Cosa faresti con me stessa? Con uno come me Cosa faresti? Tutto quello che chiedo Che voglio Martelliamo stessi 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 Aiaiai Bentornata Come stai? Ricordi ancora il nome Che non mi ricordo Alexia 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 si sta Sta a forme giuste Cazzo Martelli Qua è incredibile Allora diciamo che Body count Quanti tipi ti hai stato Più o meno 4 Sicura? Non stai mentendo? Perché effettivamente Con questo fisico qua E dirne 4 Poco poco Perché è costruita Perché se tu Li respingi I tipi Vero? Tu ti si prova Brava Scegli la qualità Ci sta Scegli la qualità Uno come me Ci sta Un vero martello Ti hai mai stato con un martello? No Vorrei provare Vai allora La stessa domanda Non so che sei una brava ragazza Tutto quanto Però sai magari A volte nella testa Delle brave ragazze Non sai mai cosa pensano Allora le tiriamo fuori oggi Con un martello come me Cosa faresti con un martello come me? Di tutto Aiaiai Stai tutto Bello cosa dici? Però di tutto Un po' Un po' Una risposta Un po' Tu cosa faresti con me? Un bel paio di cose Gira e rigira Twerca In piedi per terra Tu Te eri quella con le forme incredibili Un bel paio di cose Un bel paio di cose Possiamo fare un bel paio di cose Sai twercare? Sì Vai martelliamo Sai twercare Sai twercare Ok 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 A dopo 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 Martelliamo Aiaiai Martelliamo Welcome back Ciao Ok Come stai? Bene grazie tu Bene 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 Com'era il nome scusa? Asia 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 Forma incredibile Body count Asia? 5 Sincera eh Sincera Non mi che pare No 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 5 Ma si può fare tanto altro Lo che magari con alcuni Non mi andava di Ah ok 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 Qualità è meglio che quantità Su questo sono d'accordo Solo che a volte sai cos'è? Purtroppo Meno fai Meno esperienze hai Sì ma se fai con uno Più di una volta Ah ok E dipende anche questo uno In modi diversi Questo uno qua Dipende anche lui Quante esperienze ha Da insegnarti ogni volta Quindi Se no ho fatto sempre le stesse cose Me li scelgo bene Sì è Posizione preferita? Non è una posizione Però in doccia Smesciamo Faremo fatica Perché sei un po' bassina Per me Però teradocese Teradocese Io Io c'ho un socio Che ogni volta con lui Che quando andiamo a fare Le nostre serate pazze Ci guardiamo in faccia Che stiamo andando a casa Mi guarda e mi fa Stasera teradocese Io mi faccio teradocese Ci sta Quindi ci sta Ci sta Già con questo martelliamo Ci vediamo dopo Martellata docese Teradocese Chi ha Che a volte devi girare Un po' la testa Perché un rispire Acqua sulla testa Ah ok Ah sì sì Mi ricordo Mi ricordo che non mi ricordo Il nome Com'era il nome? Nena Nena ok Eda sai twercare? Sa twercare Sai twercare Puoi vedere? Magari una canzone Una canzone sotto Che i martelli Vedo la nera Al volo Al volo Al volo Subitamente Ehi 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 In estate Cosa dice? Oh Oh In caso di Ok ok È brava Martelli È brava È brava È brava Ci sta Twerk ci siamo Body count Il tipico Qui ci sta Zero Sono ancora vergine Ma davvero? For real For real For real Sono le amiche dietro Che confermano Che è vero Qua è malissimo però No perché Ma sai perché Ma ci potrebbe anche stare Perché uno dice È fresca È nuova Devi essere tu prima Però ho avuto brutte esperienze Una volta Una Non me l'ha detto Era vergine Abbiamo fatto Poi dopo Me ne sono accorto Nel mentre Perché ho visto Tutto il disastro E da lì Mi ha lasciato Una brutta esperienza Con le vergine Quindi Devo passare Devo passare Peccato Peccato perché twercava Martelli c'è L'ultima girl Bello Sì La rumena Ci sta Ci sta Ci sta Mi ricordo Com'era il nome? Tracy Ah Tracy Hai dei bei piedi Vero immagino Tracy Ho un 36 Uh Piccolino Fatto bene Interessante Body count Con quanti tipi sei stato Più o meno? Si dice il peccato Ma non il pecatore In questo caso Tipo? Un po' tanti Però sotto una quarantina Siamo un po' 70 Abbassiamo un attimo 15 Onesta 15 Onesta Mi piace 50 Sì Mi piace L'onesta Onesta No però Onesta Mi piace L'onesta Cioè Preferisco una come lei Che arriva e dice Una che magari C'è E poi magari Capito È vera Posizione preferita? La cavallina Cavallina? Cavalchi In che senso? Anche I stalloni Ha mai cavalcato un Un black mamba? No Un cavallo Cavallo vero Un cavallo vero? Un cavallo Sì sì Era nero Bianco Bianco Quello nero Però non hai ancora provato Non ancora Ti piacerebbe? Esperienza è ovvio Però c'è un detto Magari lo provi Provi cavallo nero Poi dopo non torni più indietro Dai bianchi Vuoi prendere questo rischio? Provare Vuoi prendere questo rischio? Assolutamente Rischiamo Anche a me piace rischiare Sì sì Aiaiai Mamma mia ragazzi What the Uuuu Ok Rischiamo Ok siamo back airy Su Fresh TV Con nostro ospite Bello Uuuu Chiaroschi Subito A commentare A fare il fuoco Mi raccomando Non dormite Ok La situazione ora sarà Che bello Cosa dovrà fare Spiegacelo Bello adesso dovrà scegliere 5 Da queste 8 ragazze Che ha selezionato 8-15 Perché sono toste Arde Devo per forza scegliere 5 Bro Evo un sogno di fare una cosa a 9 Ho brucio questo sogno Ma Non so se loro concordano tutte Dai Scegliamo queste 5 Scegliamo le 5 Scegliamo le 5 Con queste 5 Poi andrà a fare Una speed date One on one Da un minuto e mezzo Con ognuna delle ragazze Siamo ready? Facciamola Facciamola Cos'hai da dire Lei rimane Ai 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 Vieni 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 Rimasta Uuuuh Ush Bro rimane Rimane bro Ai 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 Esci pure dal gioco Lei rimane Mi sa tanto di esperienza Rimane bro Ai 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 Solo 5 bello eh Ricordati fratello Perché ero troppo prendo bene Ricordati bro Ricordati bro perché Sono già Una Due Tre Quattro Cinque Quindi di queste Due Fratello mio eh Devo sceglierne solo due Martello attento eh Solo due bello Lei mi piace perché le devo insegnare le cose Quindi ci sta Rimane Merdo bro Merdo bro Una bro Fra queste devo sceglierne solo una Solo una Brother Crazy Solo una Solo una bello Qua Il gioco si fa duro La situa è calda L'ultima volta che Era così in difficoltà Allora facciamo una cosa Soltanto perché sei tu brother Due Sì eh Solo perché sei tu Fate qualcosa per me Grande Martelli Fate qualcosa per me Fratello Terra Generosa Facciamo due Due Ti scegliamo Lei Perché mi intriga Curiosità Capito bro Curiosità Incredibile Curioso Solo una ora Curioso Però la latina Ti faceva Ti faceva far di tutto Però eh Cioè Cioè Solo lo che chi era Solo lo che chi era Ha detto eh Però 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 è anche vero Che È una partita delicata Devo capire un po' Come fare Chiaro Sì eh Siamo playoff qua Semifinale Partiamo con chi elimini magari Sì ok Ok Che eliminiamo Di queste tre Queens Devo Aspetta devo eliminare La latina La latina Ai 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 Abbiamo occasione Ma perché C'è loro Non è colpa C'è loro che mi hanno dato Lascio le colpa Do le colpa Che mi costa Avremo occasione Avremo occasione Esatto Non è finita Non è finita Allora qua bro Vi do una confidenza Personale Dicelo L'esperienza Io c'ho Quella dell'esto Che ci vado molto D'accordissimo Di solito Ci vado D'accordissimo Però c'ho una A fianco Che c'ha un fisico Bro Che per me Sai twercare tu? Io capisco Possiamo vedere Vediamo Ah ok Vediamo Vediamo Ai 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 Oh Guarda bene È bello È bello Oh io Mi sento Mi sento Quando vado In negozio da Gucci Che vedo tutte le cose E lo stilista Mi dice Quella Non ti piace Perché io lì Con i miei soci dietro Che mi dico Che danno i consigli Guarda bene Però ricorda Questa situazione Anche Eh sì fratello Non dimentichiamo Perché qua c'è il twerk Ma qua Capire dove martellare Allora Facciamo così Tiego la testa da martello E rimango Sulla fedele All'etica Ok Di solito andiamo d'accordissimo Quindi ci siamo ragazzi Siamo pronti per La speed date Let's get it siamo back Ci siamo ragazzi Partiamo con la prima allo speed date Let's go Let's get it Selene E stiamo partendo Partiti Selene si siede e si siede così Incredibile Partiamo incredibile Allora Selene Volevo chiederti una cosa Vorresti essere dominata o vuoi dominare tu? Allora io nella vita normale domino Ma a letto fammi quello che vuoi Allora con te mi lascerei dominare Tu dici di avere abbastanza esperienza Perché mi trasmetti quell'energia lì Capito? Quella che arriva e prende e fa Sì Fondamentalmente sono fatta così Poi dipende se con un ragazzo ho più confidenza Allora mi lascio dominare Però sennò mi piace prendere il controllo della situazione Come le prendi gli ragazzi così come me? Diretti, espliciti? Come le prendi? Ce ne senso Per il collo? Letteralmente Letteralmente Con uno come me dove lo faresti? Dove lo farei? Il posto più strano Per qualcuno come me dove lo faresti? Strano? In giro In giro? Sì 30 secondi Credibile A sfogare le nostre In giro Incredibile Cazzo Per come sei è molto strano che non ci siamo mai beccati prima Cazzo dovevamo beccarci Strano vero? Tu sei di Torino Ti ho anche taggato in una storia l'altro giorno Sì? Sì sono di Torino Ah sai che è possibile che ho visto il tuo profilo? Ah allora già mi hai guardata Sicuramente scrivimi dopo Che poi noi parliamo meglio Sicuramente Incredibile 10 secondi E se lì tu sapevi tuercare quando te lo chiesto Io so tuercare amore ma non ho l'outfit adatto Poi te lo faccio in privato Con questo vestito di solito sai cosa faccio? Tiro un po' su e tuerchi in cono Lo facciamo? Facciamolo Sì è Dai Metti la canzone Metti una canzone sotto Metti una canzone sotto che vediamo Celine tuercare Vediamo Oh Oh Ok Aiaiai bello cosa Oi 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 Martello Sono abituato Sembra sempre la prima volta Guarda bene Martello Vai ci sta Si conferma Si conferma Si conferma qua Si conferma Si conferma Si riconferma Si riconferma Se lì nell'ultimo giro Wow Spacca 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 Ok Che devo dirti Allora ti chiedo questo Uno come me No Sono in casa con te Ho in macchina che stiamo andando a casa Ti guardo e ti dico amo Voglio venire Cosa mi fai? Sei in macchina? In macchina stiamo andando a casa Ma da soli? Da soli O siamo a casa da soli nel letto Ti guardo e ti dico voglio venire Cosa mi fai? Come? Dimmi di più Cioè dimmi Criami la situa Allora siamo nel letto Magari tu inizio a scuola Mi togli le mutande Poi magari Hai qualcosa che fa la lingua? Sei bravo con la lingua? Te la cavi? Ok Poi magari Dopo un po' Niente Mi sbaglio E poi Tutto di te E ti sbaglio io Ok ma tu qualche specialità In particolare Hai qualche modo Qualche segretino Da farmi Sì mi tratti proprio da 20 secondi Davvero Sì eh Hai capito? Sì è È chiaro? Sì eh Sì è Sì è È incredibile Mi crei ancora curiosità Diciamo che già Dall'aspetto Avevo intuito Ma a sentirti parlare Però Cinque secondi Quindi non posso Twercare Ah però sai twercare Sì In occasione giusta Sai twercare Poi approfondiamo Incredibile Fede non delude Lei resta? Lei resta per forza Ai 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 Ok Non hai sentito Cosa ha detto bro Per forza devo rimanere Se no non è giusto Incredibile Fede È sfaccata Ok Ok Grazie mille È stato incredibile Ai 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 Bro La situa è hot Ci rivediamo Ci rivediamo E visto che mi sembra Il contesto da Shell Parto ora Ok Guardami negli occhi però Lasso fare qua Lasci fare a me Lasso fare perché C'è bianca Ma non penso che L'abbiamo mai mangiato Seasone Più buona E non ho bisogno Di fare tanto Perché so quello che valgo Mi devo fidare Assolutamente sì Ciacamente Ma qualche curiosità Qualcosa per farvi Allora Non vorrei fare la stessa domanda Che ho fatto a lei Perché poi divento banale Io e te Da soli Non ho voglia Però Voglio divertirmi Quindi non vorrei Fare tanto io Cosa ricevo? Cosa mi fai? Ho voglia Ma non ho voglia Di fare Non ho voglia Di fare Cioè ho voglia Di Non ho voglia Di fare Lascia a te Prendere in comando Cosa mi fai? Era pigra Tutto faccio tutto io Non devi fare nulla 15 secondi Pensaci bene Mi so prendere Cura del mio uomo In piedi Seduto Sdraiato In qualsiasi modo Mentre dormi Ok Mentre dormi Mi hai convinto Cioè mai Hai dato conferma Mentre dormi Hai dato conferma Quindi Cosa vuoi fare Per ora rimane I due secondi 2-1 In realtà L'ho provato Ma così Convinte Così Che danno conferma Come te Forse no Ma in realtà L'ho provato Ma così Che danno conferma Forse no Quindi Sì Rimane Rimane bro Rimane Perfetto Chiaro Martelli Aspetta Martelli Aspetta Chiaro Chiaro Abbiamo Tanti Tutti Ti Quando Abbiamo Voglia Quando Abbiamo Voglia Martelli 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 Torbo Chiaro Eccola qua Ai 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 Parto ora La piccolina Da insegnare Ma in realtà Che anno sei te 2004 Ah è vero 2004 2004 E anche poi Di piccola Ti ricordi quella canzone Sì Mi piace No Quelle dove le tre Aspetta 4 Dire Qua Che ora Perché ne fate Tanti Mi stiamo confondendo Andremo d'accordo Perché 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 Già Che parti Così Con le canzoni Che le cantiamo Insieme Ci sta Allora Facciamo così Come la vorresti imparare Da uno come me Tu cosa potresti insegnarmi Un bel paio di cose Io Un bel paio di cose Dipende anche Qual è il tuo limite Perché sai Poi non bisogna Scopriamolo Però dammi una base Cosa vorresti imparare Cioè cos'è che Cos'è la tua curiosità Che vorresti Poi vedo io Un po' come fare Oddio Non saprei Non so Vorrei Ma Per il momento Non ho fantasie Non hai fantasie Lei Lei sai cosa Mi 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 Trasmette La classica Sempre rilassato E ti twerca Su Se no Comunque Mentre Ti da la testa Un po' La guidi Le prendi Accarizzi la faccia La guidi La prendi Sbatti E sta cosa qua Mi piace Quindi Si Dobbiamo andare d'accordo Perché A me piace anche insegnare Anche scuola A rimorchio Ai martelli Insegno anche A Un po' come fare Un po' come fare Un po' come fare i martelli Imparate da bello Chiaro Ci piace così Sì Quindi con te Secondo me potremmo andare d'accordo Sulla cosa qua Ai 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 Perché poi non ti sento negativa No? Che si impone No no Questo no Secondo me sei aperta Vorresti fare Perfetto Tempo scaduto Tempo scaduto Allora lei rimane Ok perfetto Perfetto Andiamo Andiamo Qui è difficile Un po' difficile dici Però qua scopriamo tutto Scopriamo tutto Allora tempo partito Adesso Scopriamo tutto Perché ripeto Ti ho sempre tenuto Per la curiosità Ma adesso le tiriamo fuori Tutte fuori le curiosità Allora Diretto Io e te da soli Cosa combiniamo? Diretto Sei stata timida fino ad ora Ma qua mi devi parlare Ma non è timidezza Capito Preferisco le cose in privato Eh non so Quanto posso fidarmi Seguo la curiosità Erivo in privato E rimango deluso State State Terra un po' criptica qua eh Non so se prendere questo rischio A volte misteriosa meglio A volte no State Potrei essere il tuo jolly Così magari c'è spazio per quello Ti devo mettere nel mood io Guarda Sì eh Ti piace bere? Astemia Oh my god What the fuck Come astemia? Ma perché Sono rumena No Sono rumena Ho l'alcol che scorre nelle vene Fumi? Ogni tanto Ogni tanto No Amo Non mi trasmetti Conferme Zero conferme Cioè Dici curiosità Curiosità Ma secondo me Rimarrò deluso Ci sto Rimarrò deluso Non sento sensazione di No lei Mi dispiace Mi dispiace Però ci sta Sei arrivato Hai spaccato lo stesso Sei arrivata in finale Sei arrivata Allontanissime Allontanissime Tempo Scaduto Last one Last one Last one Oh Oh Ai 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 Parto Right now Allora Lei ripeto Ci sta Perché è la classica Che ti porti in giro In centro Shopping Anche se non è roba da me Però sì Spesso vado Vado In centro Bologna Milano A fare shopping Da Gucci Robe varie E ci sta Lei di immagine Che te la porti dietro Però volevo capire Anche se Posso fare altre Tante cose belle Con te Domandami Ok sei esplicita Sei Ti piace fare In che negozio La porteresti A farlo First time Con lei Così Elegante cosa Negozio da Gucci In camerino Potrebbe starci Intanto che ci cambiamo Proviamo i nuovi vestiti Potrebbe starci Una cosa veloce Però Mi sa che Ti dovrò tradire Perché sai perché No perché vi spiego Perché Di solito Quelle cose Lì ho avuto un sacco Di ex Che sono così Tirate Elegante Però poi passavo Le giornate E vedevo Su instagram Dicevo bro Devo andare da quella Trap Che capito Il cervello Che ti prende Non solo Lo so Sto bene con te Ma poi ho bisogno Di altro Per quello che devi dirmi Tu Capito Ma tu puoi stare bene Sia letto Che mentalmente Ma quello Che non le cose Dici 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 con te Posso avere due cose In una Se non hai connessione Come fai Dieci secondi Se non ti prende Come fai La scuola Ma quella carne Da macello No nel senso Vado là La metto a f*** Poi dopo torno Torno a casa da te Eh appunto Torna Ah ti va bene Rimane bro Se ti va bene Non la trovi così bro Non la trovi così Un applauso ragazzi Un applauso Ok raga Non la trovi così bro Aiaiaiai Giuro martelli In giro Non la trovi così Quindi lei rimane bro Lei rimane Materiale Aiaiai Ok grazie mille Spaccato Abbiamo finito Con la speed date È la parte È la parte finale In cui Lasceremo bello Decidere il verdetto finale Con queste prescelte Queens Se vorrà uscire Con una Due Tre O più ragazze Sarà tutto nelle mani di Bello Quindi Vediamo Vediamo come andrà Ok Ok ragazzi Siamo giunti Alla fine Bello Com'è andata questa situazione Andata incredibile E' andata bene Ho fatto fatica Ma Ce l'ho fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Quindi Siamo giunti alla fine Adesso Bello Cosa dovrà fare Raccontacelo tu Fratello mio Dovrai scegliere E' arrivato il momento Martello Scegliere Scegliere S A N I Scegliere Bro Facciamo una cosa Bro Già avete Auretta e Auretta e rotecchiamo A stanza Non c'è Con E prendo Tutti e su E vengono Con me Bro Aiei 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 Dita A mia manager Di preparare Mark Se no C'è Spazio Aiei 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 Marlo Strap house Strap house Facciamo Ok raga Incredibile Incredibilmente Incredibile Raga Fuori Controllo Devo dire che la situa è andata Oltre Troppo più hot di quello Che potevamo immaginare Troppo più Calda Hori Ragazzi Abbiamo messo tutto questo Per voi Quindi Vogliamo vedervi Subito andare a Seguire immediatamente Fresh TV Commentare Mettere like Fare tutto Dito la vostra mamma Vostra cugina Dito la tutti ragazzi Primo In Italia Su Fresh TV Gari Ringraziamo il padre Della trap The first one Quello vero Bello figo Per essere stato con noi oggi Grazie mille Quindi ragazzi Ne abbiamo fatto tutto Quello che potevamo fare per voi Ora tocca sotto voi Da Fresh TV È tutto Peace out